Si allontana sempre di più il rinnovo del contratto di lavoro nazionale della dirigenza medica e veterinaria. Lo denuncia in una nota stampa Mario Polichetti della FIAS provinciale. A Salerno la situazione è critica, nessuno può mettere in discussione il diritto ad aumenti stipendiali di pari entità a quanto percentualmente riconosciuto al personale degli altri settori della dirigenza, della pubblica amministrazione e ai medici convenzionati. L'Italia sta diventando sempre di più una colonia estiva della Germania popolare. Si sta aprendo una gravissima crisi politica e istituzionale nel nostro paese. Il voto politico è stato per l'ennesima volta vanificato dalla nomina di un primo ministro tecnico gradito alla Germania e ai poteri forti e ai signori dello spread. In questo panorama si allontana sempre di più il rinnovo del contratto nazionale della dirigenza medica e veterinaria. A Salerno la situazione è critica, così Mario Polichetti, dirigente provinciale della FIAS Salerno.